... Bergomi, quindi al centrocampo manicone, ma c'è nuovamente l'iniziativa dell'indiavolato Marchigno che è in campo, quindi Marchigno raddoppiamo in proponità su Marchigno, colponità con... ...in forza ancora il Salisburgo con Hartner, quindi con Marchigno su Marchigno, c'è Perti, dribbling di Marchigno, palla dentro e ancora Pfeifferger rivediamo l'iniziativa di Marchigno, il suo suggerimento è la battuta di Pfeifferger raramente mi era... ...poderoso, il lancio centrale per Marchigno che tenta di farsi... ...su ritmi elevatissimi ma con scarsa precisione Marchigno